tutto in prima sono diventato troppo leggero ah quello è giusto ah quello è giusto ah quello è giusto per quello che ti ho chiesto che la uscita era uguale porcazza non mi piace no è perché arrivi stupido cerco di farla come la fai te ma la tua va via più veloce lui la fa giusta eh ma la sua va via un po' più veloce io aspetto sempre troppo bravo io ho copiato per raddrizzarmi mi hai messo in ciula poi ma cosa succede? che tu stai girando sempre eh sono ancora storco guarda qualche nevo aiuto oh quella è la muo adesso la consumala va 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 potevi usarlo come invito eh guido fammi vedere come cazzo la fai tu eh devi andare via prima e qui ad alto sui cammini non devi aspettare non devi aspettare di raddrizzarmi non devi aspettare di raddrizzarmi ci cammini subito ad alto qua no è giusto qua qua no è giusto qua chiudi qua Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.